La metafisica dell'illimitatezza su cui si fonda il capitalismo assoluto o turbocapitalismo, così come l'abbiamo studiato soprattutto nel nostro studio Minima Mercatalia, si pone in pari tempo come pratica dello sconfinamento permanente. Potremmo dire che in altri termini la metafisica dell'illimitatezza fondativa del capitalismo si pone come mito della crescita infinita in economia, come violazione di ogni inviolabile nell'ambito morale e come pratica dello sconfinamento permanente nella dimensione geopolitica. In altri termini, nel quadro del nuovo disordinato ordine no border, ogni confine materiale e immateriale deve essere oltrepassato, e deve essere oltrepassato di modo che si annulli ogni linea divisoria tra ciò che è interno e ciò che è esterno rispetto all'ordine capitalistico mondializzato e al continente invisibile della finanza planetaria. La dinamica dovrebbe essere alquanto chiara. Il capitalismo globalista, dopo il 1989, tende illimitatamente a saturare il mondo. Si pone come una forma globalitaria, come un totalitarismo inclusivo, potremmo dire, giocando con il lessico della pubblicità, che è un totalitarismo all-inclusive, perché non permette ad alcun paese, ad alcun area, alcun popolo del mondo di rimanere fuori rispetto ai confini planetarizzati del nuovo ordine mondiale del capitale. Se i precedenti totalitarismi escludevano, impedendo ad alcuni di far parte del mondo di cui erano riferimento, il nuovo totalitarismo globalista, il globalitarismo, è un totalitarismo che impedisce di rimanere fuori, costringe tutti i popoli del pianeta a entrare nel modello unico, procede mediante quella che abbiamo definito l'inclusione neutralizzante, include e insieme neutralizza le specificità dei popoli e delle loro culture. Secondo il rilievo dei Grundrisse di Carlo Marx, cito, il capitale deve combattere per abbattere ogni barriera spaziale ai rapporti, allo scambio per esempio, e conquistare il mondo intero per il suo commercio, fine della citazione. Carlo Marx ci sta qui suggerendo che il capitale mira a unificare il mondo intero sotto il segno della forma merce, ed è ciò che chiamiamo pudicamente globalizzazione. Il capitale cioè mira ad abbattere ogni confine materiale e simbolico fra ciò che è capitale e ciò che non è capitale, di modo che ciò che ancora non è capitale diventi capitale, venga saturato e colonizzato dalla forma merce, che è quella fondativa del capitale stesso, di modo che il mondo intero sia soggiogato dal nesso utilitaristico tra monadi insocievolmente socievoli e senza finestre. Il mondo intero è ridisegnato come un unico bazar mercatistico in cui non ci sono cittadini e cittadine, membri di una comunità solidale, ma solo atomi di consumo che si rapportano, secondo il modello di Adamo Smith, come il birraio, il fornaio e il macellaio, secondo la logica del profitto, secondo la logica della insocievole socievolezza, come la chiama Kant, ciascuno mirando al proprio egoismo personale insieme dando vita per ciò stessa a una società basata su basi non socievoli, come rapporto utilitaristico all'insegna dell'algida geometria del dot des. Sul piano simbolico la prassi dello sconfinamento capitalistico è legittimata ogni giorno, è legittimata mediante la subcultura della narrativa hollywoodiana no border, è di più legittimata mediante la convergente demonizzazione integrale dell'idea stessa di confine. L'idea di confine viene presentata come inevitabilmente autoritaria ed escludente. Si obblia del tutto in maniera niente affatto neutra che il confine ha anche una valenza protettiva di difesa dei diritti rispetto, guarda caso, all'offensiva della violenza mondialistica. La desovranizzazione capitalistica dell'economia di mercato richiede necessariamente l'abbattimento dei confini e delle frontiere. richiede ciò di modo che sia, e o ipso, annullata la possibilità politica di intervento nei territori. Richiede l'abbattimento dei confini e delle frontiere affinché si imponga un modello unico indistinto, scevro di barriere reali o simboliche. Secondo la logica duale e polemologica della società alienata, l'aggressore mondialcapitalista ravvisa nei muri protettivi, nei confini e nelle frontiere, altrettanti ostacoli. Vede in queste realtà dei limiti appunto che debbono essere abbattuti in vista dell'invasione del territorio scelto per l'opera predatoria. Il capitale vuole cioè abbattere confini, muri e barriere per colonizzare ciò che ancora capitale non è. Ora, quelli che per l'aggressore sono ostacoli dovrebbero a rigore essere difesi come protezioni da parte dell'aggredito, in questo caso da parte del servo precarizzato, la classe dominata, scaturente dall'unione fra il vecchio proletariato urbano e il ceto medio anch'esso pauperizzato e precipitato nell'abisso dopo il 1989. Ebbene, il servo precarizzato invece tende anch'esso a combattere oggi i confini e le frontiere come ostacoli, e lo fa perché il suo immaginario è stato colonizzato dalle mappe categoriali del proprio nemico di classe, che in tal modo domina sia nelle strutture sia nelle superstrutture. Il servo per parte sua è insieme dominato e subalterno, per riprendere la distinzione di Gramsci. Dominato perché è dominato sul piano dei rapporti della produzione, subalterno giacché è dominato sul piano della produzione culturale intellettuale. L'ordine del discorso delegittima prioricamente ogni idea del confine e lo fa abbinandola a quella sua iperbole negativa che è la e di prevaricazione. Contro questa falsa identificazione giova ristabilire con Kant la distinzione tra una barriera invalicabile e un confine che invece limita e regolamenta. Kant chiama in tedesco schranke la barriera invalicabile, quella barriera che divide ermeticamente e non permette alcuna comunicazione, non può essere attraversata. Il confine invece come limite è appellato da Kant grenze. Esso è valicabile secondo regole, separa ma non in maniera definitiva. Rende possibile il transito ma lo regolamenta. In altri termini, a differenza della barriera, che solo chiude e nega le connessioni, il limite è ciò che si affaccia da una parte e dall'altra. Il limite non impedisce l'attraversamento, semplicemente lo regola e lo controlla. Fa in modo che tra le due realtà separate dal confine non si crei indistinzione. Fa sì che l'una non occupi lo spazio dell'altra. Sotto questo profilo il confine come frontiere e come limite non nega il transito ma evita le invasioni. Non impedisce le relazioni ma opera affinché essa non diventino sopraffazione. Ancora il confine non interdice il nesso tra i differenti. Fa però in modo che non si perdano le frontiere che li separano, rendendoli non identici. Ebbene, in nome della libera circolazione delle merci e delle persone mercificate, il discorso del cosmopolita capitalista ha oggi per presupposto fondamentale l'abbattimento di ogni frontiere e di ogni limite. Il gioco sta tutto nel confondere la barriera con il limite e nello screditare il limite come se fosse perciò stesso la barriera, secondo la accezione kantiana. In questo modo il mondo come pluralità di differenze demarcate da confini si ridefinisce come un unico mercato sconfinato, la openness capitalistica, secondo l'ordine del discorso, che celebra ogni apertura ed è legittima ogni forma di chiusura, per l'ovvio motivo per cui il capitale mira a non avere confini, a essere un open space globalizzato senza confini e quindi tale da invadere il mondo intero. Potremmo dire che in questa maniera il mondo come pluralità di differenze demarcate da confini si redefinisce come un unico mercato sconfinato, senza confini, omologato sotto il segno della forma merce. Nel suo spazio globale tutto circola senza impedimenti e insieme con i confini spariscono le demarcazioni che differenziano le realtà rendendole non omogenee, non omologate fra loro. Tutto diviene indistintamente il medesimo. Sosteneva l'antico razio nelle satire che tutte le cose hanno in sé un limite, est modus in rebus. Sosteneva inoltre che sono ben definiti i confini, sunt certi denico e fines. Il globalismo mercatistico per parte sua procede neutralizzando in un unico movimento limiti metafisici e confini geografici, misure morali e frontiere del diritto. In assenza dei confini e delle frontiere non si produce la libertà di movimento delle persone. Si produce invece la loro circolazione necessitata sotto forma di merce. Dalla fuga dei cervelli alle immigrazioni di massa, alle delocalizzazioni infelici. Non si determinano il confronto tra i diversi e la relazione tra i distinti, ma l'omologazione sconfinata e l'indistinzione generalizzata. Coessenziale alla logica del capitale e lo sconfinamento, come anche ha mostrato Debré nel suo Elogio delle frontiere del 2010, lo sconfinamento, dicevo, si realizza pieno mediante l'abbattimento di ogni frontiera. Deve essere abbattuta per il capitale ogni frontiera che ostacoli la libera circolazione e la openness, l'apertura integrale del reale e del simbolico, ai processi di globalizzazione, o meglio potremmo dire di inglobalizzazione, essendo la globalizzazione la dinamica con cui si ingloba tutto ciò che ancora non rientra nel modello unico. Si determina così quello che Peter Sloterdijk nel suo capolavoro Sfere ha chiamato, apro le virgolette, l'ingresso nello spazio omogeneo, chiuse virgolette, l'ingresso nello spazio omogeneo del mondo unificato sotto il segno della reificazione. Ciò vale in generale per l'immaginario e per le sue frontiere morali e religiose. Esse vengono annichilite in nome di una open mindness che, abbandonando ogni confine identitario e ogni barriera critica, favorisce in astratto la libera circolazione delle idee, ma in concreto favorisce la colonizzazione dell'immaginario da parte del capitale subculturale. Esso è legato all'omologazione tecnonichilistica del nuovo ordine mentale che fa da completamento al nuovo ordine mondiale turbocapitalistico. Ciò vale in egual misura per le frontiere materiali connesse con l'esperienza della statualità nazionale. La desovranizzazione e la spoliticizzazione nel loro nesso simbiotico si attuano mediante lo sconfinamento, mediante la decostruzione delle frontiere. I tecnocrati degli spazi cosmopolitizzati abbattono ogni muro e ogni barriera alla libera circolazione e insieme, proprio in quell'atto, erigono muri sempre più alti e barriere sempre più invalicabili tra i dominanti e i dominati, tra i primi e gli ultimi, tra il popolo e l'elita. Per poter agire la politica, lo sappiamo, necessita sempre di una sovranità limitata nello spazio. Necessita dunque di un territorio con precisi confini in cui essere radicata. È per questo che l'idea di una politica globale o di una sovranità planetaria è di fatto una contraddizione in termini. Infatti la politica e la sovranità sono strutturalmente operative entro spazi delimitati e definiti, separati rispetto ad altro. Senza confini dunque non ve democrazia, ve solo sopraffazione a opera del più forte. Ed è per questo che oggi il capitale propone con il suo suadente discorso il superamento dei confini e delle frontiere come emancipativo, quando tale è sempre solo per la classe dominante, che mira con i confini ad abbattere anche le forme di protezione di ciò che ancora non è stato conquistato dal capitale e dall'imperialismo che intrinsecamente lo caratterizza.